buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video sono lorenzo bucci ed oggi non è che si inizia abbiamo già quasi finito tutte le vigne però iniziamo con la cimatura questa qua la massingola non a cortelli con queste queste qui che non so come si chiamano della colombardo taglia abbastanza bene poi diciamo in questi giorni in questi anni l'abbiamo rassettata tipo qui come vedete l'avevo spaccata perché avevo attaccato un colonnino però si è sardata funziona l'ho già ingrassata questa ieri sera qui soprattutto dove c'è il rotore che gira bisogna sempre ingrassarla e gli ho ingrassato anche un po la lama camminando partire a girare e tutta la guida l'ho ingrassato si manda con il 40 40 a ruote molto comodo gli si è messo il tettino ieri perché non ce lo facevo più a stare sotto il sole infatti però gli dovrei mettere anche un telo o qualcosa perché anche così non è che si va alla grande fa sempre caldino poi in questi anni lì si è aggiunto anche il radiatore per l'olio perché scalducchia un po troppo e abbiamo sta spazzola che sarebbe la spazzola per le api per pulirlo ogni tot ci si ferma perché vedete si attacca tutta la polverina tutto il laniccio e l'abbiamo cambiato l'anno scorso perché l'anno scorso abbiamo attaccato male i tubi e quindi è esploso appena si è messo in moto un buco qua ho fatto un bagno ero lì sopra del trattore io ho fatto un bagno e ora si può andare verso il campo perché sono le 9 20 abbastanza tardi è rifatto tardi quindi vabbè la sciarpatura e trattore diciamo homemade che abbiamo utilizzato questo dove solitamente ci stanno i pesi il trattore però quindi per non togliere sempre anche questo diciamo ci si è fatto una sciarpatura per farcelo stare sopra con questa guida che ci va in castro e con questo perno che fa sì che non fa così e anche con questi che li fa a forzare qui sopra non so se vedete e poi questo l'abbiamo fatto noi noi infatti un babbo e ci si sciarpa quattro buloni due due abbastanza comodo semmai un po lontano infatti c'è questi tubi che tirano un po che sono quelli per l'altezza sono un po corti proprio il limite e bisognerebbe allungarli però finché ci stanno finché non si strappano va bene quando si strapperanno facciamo veloce a chiudere l'olio perché sennò si fa un casino e andiamo non perdiamo altro tempo ci siete quando siamo arrivati laggiù come vedete diciamo le pigne hanno abbastanza bisogno di essere cimate tutte piene di femminelle essere sono ravversate e che sono i capi dal terzo filo scendono fino in fondo guarda quanto sono lunghi ora mi manca solo questa parte qua di questa vigna che sarà mancherà due ettari all'incirca due ettari e mezzo poi tutte le altre vigne le abbiamo fatte però qua c'è un lavoro vi metterò la pettorina e poi si parte il problema da avere le pigne così in collina è che cambiano sempre la la pendenza a volte che è una pettorina e a volte un pettorina e con la macchina non deve stare soprattutto con il terzo filo poi quando rimane qualche traccio lo prendo e lo taglio alla mano in pratica si fa tutte e due le vigne sia questa che quella di sopra che avete visto ora è chiaritato anche se è da stimare almeno se si fa solo una passata perché se no a volte si mette le palline in mezzo a fare manovra ed è un po' stretto poi con questa stimatrice che è lunga piccolo aggiornamento è 10 a mezzogiorno abbiamo fatto tutti questi filari qua e ora i filari allungono fin laggiù e poi iniziano tutte le pigole della vigna quindi invece riguardo all'uva essere cioè questa è la vita di testata quindi ce n'è anche parecchia certamente le viti di testata fanno di più perché hanno più spazio anche per la visitazione e tutto poi abbiamo anche un po' di malattia vedete però è seccata questa ormai è secca quindi anche qui si sta cercando di contenerla perché di fermarla in tutto per un certo per cento è difficile però uno cerca di contenerla l'uva qualche ciocca dalla malattia è stata presa però diciamo la maggior parte soprattutto è in merlò in merlò un po' l'ha accusata diciamo l'ha sentita soprattutto in merlò san giovese qualche ciocchettina dove le spore sono cadute ha preso la ciocchettina e quella fa conto su una ciocca così a volte ha preso qui il fondo e mezza è seccata la parte sopra è buona però i merlò sono giovese anche se li secca una parte o delle ciocche diciamo li seccano vanno a morire così l'altra ciocchia solitamente le fa più grosse invece il merlò no se li secca le ciocchie ha e anche le altre sono uguali a quelle altre quindi piccoline noi abbiamo un merlò un po' farlocco un po' piccolino però vabbè i filari vengono abbastanza bene il problema là poi dopo quanto vedrete stasera andrò spero di tieni la vigna i filari fanno così e quindi uno deve stare un po' attento con la cimatrice la devi diciamo impostare per bene perché sennò c'è rischio di tagliare qualche filo perché tra la vegetazione non è che vedi troppo bene dove sono i fili nel senso che sono qua giù nascosti e questo è un piccolo recap della mattinata siamo tornati qua su ora poi vi faccio vedere ho messo il tettino ho messo un'aggiunta al tetto ora stiamo a mettere la trappola per la tignola ora la metterò tipo qua toglie un po' di pampani e la metto qui penso poi ci metto il ferrumone dentro e si guarderà tra un po' di tempo se ci cade qualche andiamo a letto metto tipo così penso vada bene non lo so qui dentro c'è il ferrumone ho messo così e ora mettiamoci il ferrumone in pratica il ferrumone è questo chicchino sembra una pasta si mette nel mezzo e questo in pratica attira messo così vedete e ora si aspetta raccogliamo la plastica non lasciamo la fa' e ora si può aggiornare il nostro lavoro guardate che tettoia mi si è fatto cosa è? guardate l'ho legata qua i filini l'ho legata sopra mi piace il mio ombrellone? e ora ci ho appoggiato questo sarebbe figo provarlo almeno no? si prova? si prova si prova l'ho legata la Grazie a tutti. Vi spengo perché devo cercare di staccarvi da qui perché non si stacca. La macchina non è successa nulla. Tutto uguale. Ha preso qua il gambo e la vite e la vite era qua, quindi è entrata qua, qua dentro. E la vite è rimasta qua. La vite si è tagliata i capi, sì. L'importante è che la macchina è rimasta tutta intera. E cosa dicevo prima della sicura? La sicura è questa parte qua, questo bulone che permette di fare così. Che quando batte qualcosa si sgancia e viene indietro. Questa va avanti perché se fosse bloccata si potrebbe rompere. Aggiornamento, abbiamo fatto un bel pezzo di vigna fino a qua, fino all'ultimo filare, diciamo, più lungo. Poi inizia le pigole per finire la vigna. Ora devo andare a casa perché ho visto il trattore scarda troppo. Scarda troppo. Guardate qua. Troppo. Devo andare a casa e cercare di soffiare il radiatore, lavarlo l'acqua, facendo qualcosa. Che sta. Così non va bene. Non si può andare su. Troppo troppo alta la temperatura. Siamo ancora sui verdi, va bene. Però sapendo che solitamente si muove di un pezzettino così e basta, non va bene, non va bene, non va bene. Va a verticofano. Come potete vedere. È bello, va a farlo. Ora si prova a soffiare, si prova a soffiare un po'. Aspettiamo i carichi di compressore. Buongiorno, nuovo giorno. Tra il giorno dopo da ieri. Si arriva a cimare, però un'altra vigna perché domani si dovrebbe forse ramare. Che è sabato. Quindi non andava a vedere se bisogna cimare il cannonato. Come vi ricordava ieri, ho smesso anche che do' andava via e poi perché scaldava troppo il trattore. L'ho lavato tutto. Pulito. E ora non dovrebbe più scaldare. Vediamo per bene. Non dovrebbe più scaldare. Quello è si spegne. Ho pulito anche l'apirino e l'olio per l'olio con l'aria oppressa e... Siamo pronti ad andare. Finito di cimare il cannonato. Tutto fino laggiù. Che appena vedete il trattore anche dopo mancava da cimare. Perché poi questa vigna domani, se tempo permette, perché mi sapevi scaldare adesso. Però ora guardo in mezzo per domani. Ma non ci dovrebbe essere problemi. Però almeno la vigna è già pronta. Già scimata. Perché c'era dei tralci. Questi della terza coppia arrivavano fin qua giù. Nel senso, per terra. Non andava bene perché sennò quando faccio il trattore con la botte e con la ventola gli fa i tracci questi lunghi, li attacca diciamo all'uva così e non fa diciamo entrare il trattamento per bene all'uva. Quindi ora si andrà dove ero ieri. A cimare. Finito di cimare la vigna giù sotto quella grossa. E che manca poco. Sono alle pigole anche lì. E poi abbiamo finito proprio di cimarle tutte. Perché anche il merlot ho già cimato l'altro giorno. Non c'è rimasto nient'altro. Poi tutte pronte per essere ramate. E poi si aspetterà. Si aspetterà per cimarle quando ricresceranno. Ma ho visto che stanno già iniziando a ricresci. Quelle che ha cimato diciamo una settimana fa hanno già ributtato abbastanza. Tutta questa pioggia sono vigorose. Soprattutto il cannonau. Che con l'acqua ci sta bene. Cresce rigoglioso. Aggiornamento. Qua inizia a piove. Ho guardato in meteo che alle 4-5. Che sono adesso le 4. Mette pioggia forte. Infatti inizia. Infatti l'ultimo orto ho preso una bella acquata. Non ho voglia di riprendila. Mancava solo questi filari qua. Penso che stasera non li finisco. Nel senso dipende se smette velocemente. Ora penso di andare via. Posso sia già abbastanza lungo come il video. Credo. Quindi. Penso che posso anche chiuderlo qua. Ci si vedrà in un prossimo video. Non so in quale. Penso. Qualcosa. O trinciare. Perché tanto devo trinciare tutte le testate. Si deve trinciare tutto. Trinciare penso. O. Scimatura. Anche lavorare le vignore bisogna attaccarle ai strippatori e rilavorarle. Con. Con il dente. Con l'occhino. Che li fa proprio. Raso raso le viti. Che porta via l'erba. Quindi i prossimi video ci saranno. Ci saranno. Quindi vi chiedo di iscrivervi. Al canale. Lasciate like a questo video. O anche a tutti gli altri. Quando. Se volete andare a vederli. E guardare i link in descrizione. Ce n'è. Di alcuni interessanti. Come il sito. La nostra azienda. E vari social. Quindi. Nulla. Ci si vedo nel prossimo video. Ciao.